e bello a tutti ragazzi da melograno 6996 non mi ricordo ma lasciamo perdere oggi siamo qui con il bm sp manu 22 battaglia oh ma che mai perché nisi sta cosa vaffanculo muori ok ragazzi questo è un bm diverso questo farà uno di uno bm potete rendire la sua volta di minchia scusate mamma ammazzati fa cura io ti spacco il cuo ti spacco il culo gli spacco il culo fallo vero non essere falso fallo vero vai allora ragazzi questo sarà un uno di uno scuola interruzione questo sarà uno uno di uno molto serio ragazzi molto in attacco in attacco guppana comunque ragazzi ho fatto un amore ma quanti anni hai scusami che te ne è forte mori ora abbiamo qualcuno uno di s1 sicuro noia a cina mi fa male aiuto a mamma di pancino mi butto mi butto aspetta manu dai cazzo amoni fallo bene cazzo fallo come l'altra volta grida metti da urlare non gridare ho capito che è passato ma ne cazzo fallo serio fallo porca puttana tipo tu lo fai a bambino lo capisci la gente a 3 2 1 via allora ragazzi dove sei che capo anche lo scuola piccolo spato ma la foi e ci diciamo mi ha utilità un'altra cosa allora ragazzi ti apro al culo bastardo чесcio che parte fai pagt wealth 50 anna min ultima p vada guarda, 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 va bene, va bene, guarda, va bene, ok, non mi prendi guarda, talmente sei down, talmente sei coglione che non mi hai visto, ehm, ok no, non puoi plantare, no, non puoi, no, 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 hai avuto solo culo, aia, 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 take, guarda, 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 down, non ci puoi animare è un'abilità di Zofia K quindi posso rianimarmi va bene ma in un avion è troppo facile dai che bm del cazzo io bm del cazzo di quanto se fosse mi prendo la recita minchiavata fortissimo ora vediamo qua guarda sono sicuro che ti faccio spawn killer guarda non rinforzo non faccio un cazzo non faccio un cazzo non c'è la fede non c'è la fede un po' di merda amore che cazzo sei che cazzo sei cazzo sei una zona controllata dal nemico lasciala subito viva di bottana viva di bottana wow sto smirando no no non mi muori non muori ti prendi in testa non muori che cazzo ti prendi in testa no basta che schifo fai schifo schifo fai schifo merda merda loro non te lo meriti non te lo meriti loro fai schifo schifo inutile bm del cazzo muori rosica rosica bimbo merda io l'ho preso di senova o melusa o melusa rosica rosica bimbo nutella o melusa io cazzo vuoi dire damma tutta merda ti odio muori non è che piace meruti quando sono forte ok campione la missione è trovare disinnescare una bomba guarda come ti uccido adesso guarda ti uccido con la pistola ok ti puoi uscire pure io con la pistola ah ma che smira ho smirato ma basta io basta mamma mia merda di arma non mi miravo non mi miravo mi accortellavo solo guarda che schifo che schifo sei la persona più indecente che conosca mamma mia basta ti spinghilo di nuovo ti spinghilo io adesso adesso mi prendo ti cerchi a per cura mio papà mio papà aiuta non ti affogare il mio papà mi dicendo il mio papà il mio papà mi ha caricato 15 euro si ah il tuo è povero rimangono ok c'è lo studio per ventire basta ti uccido la posizione è covid mamma è covid mamma mamma è covid oh non muori ho le ho scusa non sapevo dove hai non muori no non muori non muori vai non muori non muori si ce l'ho fatta ce l'ho fatta mamma 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 ce l'ho fatta scatto se uno scatto di merda mi battevi 4 a 0 da bocchi poi ti faccio il comeback ti faccio il comeback non si arriva fino a parte si arriva fino a quando avvisco tutti i round buono che lo fai vai come dici tu adesso tu mi devi recuperare tutti i round devi vincere il minimo qualche quindio a quanto cazzo arriva non lo so mi devi lasciare a tre della figlia lasciarmi a tre vedremo 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 che scasso basta adesso adesso tagliarlo ci muori semplice questo è il primo e ultimo round che vinci adesso tagliato bambino tagliato you are gay where are you gay? no che cazzo no ho sbagliato il tasto ho sbagliato il tasto che schifo ho sbagliato il tasto che gioco di merda che gioco di merda che gioco di merda mamma mia che inizia schifo che inizia schifo mi prendo ora io mi prendo mi prendo un'opera che tu non hai mai visto il nuovo operatore mi prendo vai ti calcazio ah ti apre il furo ti apre il sculetto oh ti apre il sculetto 4-1 ti sei pure ora non sei citato ma perché mi hai cambiato i tasti ecco io ho cambiato ah certo utilizzo le atto non lo sapevi grazie rimani in questa zona utilizzo le atto io ti segnalo io ti segnalo ah ho un'opera te l'ho mai visto ah ah non mi si aaaaaah che cazzo è un hack praticamente mi hai trapassato lo scudo ti ho trapassato lo scudo e me l'hai detto pure non solo fa schifo fa schifo lo so io ti segnalo segnalo a bus in chat vocale basta lo so segnalo a bus di trucchi mi sono a truccarlo se questo 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 un altro di merda mi uccida mi uccida dai siamo unì bambino di merda se c'è l'operatore bambino tumorato tu sei gay tu sei gay fuori non piangere non piangere però non piangere mamma te ne vai mamma mi passi davanti mi immagino che giochi male perché ci sa tua madre che è posto davanti vero è il mio gatto il tuo gatto ah tua madre è un gatto stai zitta puttana di una gatta non pensavo a questo linguaggio così scorrila e invece guarda ora mi vado a guardare forno alla camaretta guarda cosa che tu non potrei mai fare perché non hai visto adesso mi guarda il mio gatto mi guarda il mio gatto nella camaretta ora se andiamo a 6 perché lo decido io questo è il mio gatto lo sai il mio gatto tu non decidevo con un gatto tu ma no bomba individuata è il mio gatto lo senti guarda guarda rimani ancora fuori che ti sei il tuo gatto che ti insegue aiutano ye come non sta arrivando non sta arrivando è venuto va bene va bene va bene va bene basta tu non mori tu non mori non mori non mori fai schifo tu è stato in testa ti ho preso ma tua mamma perché ti ha procreato quella puttana di tua mamma sono tuo padre ma chi vuoi me ne aprite le testa di cazzo tu sei così scatto quali palle scusami perché tu sei senza cazzo e senza pallena anche bambino di merda non hai palle guarda di quanto sono forte che ti sponchillo di nuovo di quanto anzi no vabbè dai ti lascio vincere guarda te lo dico pure questo round lo vincerai questo round no no io ora ti faccio il combo come back come back oh io ho 10 in inglese alle elementari mi hanno dato 10 in inglese che poi non mori perché non mori oh non mori oh utilizzo le hack utilizzo le hack guarda i proietti mi trapattano mi proietti oh ma voli ma cosa ma voli guardati ora che spari i lancianazzi mi spari i lancianazzi la missione di tale armi la mia parica dai come ti ucciso però vorrei sapere come ti ucciso vorrei sapere vabbè ma tu se no se ti volevo pure fare vincere il round ti volevo pure fare vincere manco quello ti fido a fare mamma mia eh sì davanti dovrei fare l'ultimo round perché la mia mamma mi ha detto andrà a mangiare va bene ultimo round chi vince questo dai ultimo round ti do questa possibilità chi vince questo no pallone abbassamo dopo non abbassamo certo sennò arriva con la cintura la vita ormai ho messo tutta la sfida dobbiamo fare tutti i ronde fino alla fine dovete trovare una bomba ma c'è la mia mamma che mi dà mi dispiace aaaaaah 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 aaaaa exacerbati oh non mori che mua aaaaaa che mua ora muori ma non muori ma in che senso che non si è morto la clamor e se non si è morto la clamor ti ha dato i colpi di pistola di bobbetta una di cosa è il letto di pistola che gioco di merda mamma mamma ti prego non tirami mamma faccia l'ultimo estacco ti prego ti prego signora lo sai che un figlio è ritardato eh non lo sai che un figlio è ritardato dice che questo è ritardato mamma mi devo buttare perché sennò succede un casino ma io faccio ma tutti qua e chiama ma perché lo dici mancano cinque secondi non dico per ciò che lo fa là abbastanza perché non mi guarda no no non lo dire fai di che lo chiamo fai di che lo chiamo i carabinieri chiamo i carabinieri chiamo i carabinieri chiamo ah capito ah oh non mi uccidi io sono di tappano davvero non si uccide con la c4 oh scappa scappa hanno trovato una bomba sapete cosa fare ah io ho fatto io ho fatto io ho fatto io ho fatto e il disinnescatore di bombe è stato effettato che napo ah ti ha scoperti no ma devi altro così non puoi passare disinnescatore trovato proteggete le bombe mi chiedo con la pistola ma che ragazzi ragazzi che stanno succedendo ragazzi che stanno succedendo ragazzi mi sto preoccupando quasi quasi aiuto aiuto chiama la polizia io non c'è un cazzo per me vuoi pure morire aiuta dai hai il mio culetto ahhh in mia cola ma sei serio sei serio mamma ho smesso ok ma non finisci finisci questa cosa mi raccomando dai basta 5 secondi ok ha finito ho finito manu male ha detto se mi ricomporto male se c'era di una stessa cosa peggio ma che ti ha fatto che ti ha dato qualche vicino vicinta ti ha dato no peggio che ti ha fatto che ti ha fatto bambino ricordato mi ha stuprato mi ha posto che ha stuprato addirittura addirittura ti ha stuprato ti ha stuprato ahhh ti mi devi sempre raggiunto ho vinto 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 ma che sei navo mamma mia ho servo scandalosa io la mia mamma mi ha dato le mani guarda adesso adesso ti ammazzo con un colpo ti faccio di one tap ti faccio non te la fii di tanto e invece si non la fii da affatti e io mi prendo e mi prendo l'opera più forte al mondo ah ove la mettiamo? addirittura qual è l'operatore più forte al mondo? di là 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 appunto io sono una sorella che rimani in questa zona cos... cosa? se non ho male... eh mi sento con tua madre no no mi sento con tua madre è diversa cosa iii ! ci ho ucciso ah no ah ah aiuto che gioco di merda ho schifo sto gioco perchè rompendo l'operatore più veloce non lo capisco che gioco di merda devi morire devi morire aiuto mi devi aaaaaah il difo troppo di merda perchè fai schifo guarda vado a coltellare vedi di un colpo fai pena fai pena no mamma non lo fai ti prego mi comporto bene da oggi mi comporto bene aiuto aiuto guarda lo sai lo sai che se vai fuori ti regalano ti regalano se vai fuori mamma mi sono la società aspetta bmbm lo sai che se vai fuori ti regalano un'elite ti regalano cosa? allora se tu esci fuori dalla finestra devi rimanerci devi rimanerci all'incirca 20 secondi 20 che di 5 secondi rimani fuori alla finestra e ti do un'elite gratis che ti danno ok aspetta un attimo 5 secondi devi stare fermo devi stare fermo immobile devi stare ok ok anche 30 secondi anche 30 secondi che con 30 secondi te ne danno 2 elite gratis ah va bene va bene 30 40 secondi ti hanno dei elite gratis va bene va bene devi stare fuori però devi stare fuori eh no fuori è troppo difficile eh no fuori fuori se no non ti hanno un cazzo ah va bene va bene bomba individuata rimani fuori perfetto bravo ti daranno un elite ti daranno ma sto plantando no non è vero disegnescatore online è attivo ci faccio fuori mi aiuto hai trovato una bomba ah io claque che gioco di merda che gioco di merda che gioco di merda fa schifo sto gioco fa schifo che cazzo è nato fa schifo fa schifo fa schifo sto gioco vabbè ragazzi ragazzi il bm ha perso che nabbo 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 11 a 2 ti ho fatto vincere tutti i round quando stavo giocando fede schifo 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 quella partita quella partita io ho fatto 10 1 e ti ho fatto 0-3 0-20 sei un bm di merda fai schifo fidi puttana puttana muori